Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nella centralissima via Cesare Battisti. Vogliamo denunciare per l'ennesima volta questa situazione, oramai un male incancrenito, quello della doppia fila. Vedete, l'amministrazione comunale secondo me ha sbagliato su un fatto nel mettere il cordolo, non perché il cordolo non avesse una sua logica, perché ovviamente il cordolo delimita la corsia preferenziale e quindi servirebbe teoricamente a disciplinare, a regolamentare il traffico. Ma il vero problema grosso è che al di là del cordolo si vengono a creare, proprio perché la struttura è a imbuto, si vengono a creare, vedete, si viene a creare sistematicamente la doppia fila, di modo che la carreggiata si restringe ulteriormente e praticamente il caos, il traffico, l'imbottigliamento diventa ancora peggiore. Guardate qui, sto camminando, stiamo facendo tutto live, vedete le macchine in doppia fila. Allora a questo punto il rimedio del cordolo si rivela assolutamente inefficace. C'è da sottolineare ovviamente l'inciviltà, lo scarso senso civico, anzi l'assenza del senso civico di chi mette la macchina in doppia fila. Ma a questo punto si poteva benissimo evitare di mettere il cordolo e si sarebbe dovuto invece fare un'azione intensa da parte dei vigili urbani nel sanzionare chi staziona in doppia fila, senza bisogno di mettere il cordolo, perché il cordolo altro non ha fatto, se non alla luce della doppia fila, di creare come dire caos su caos. Guardate qui, il margine di percorso delle macchine si restringe, diventa un budello, perché appunto, vedete, le macchine giacciono in doppia fila. Spostiamoci, andiamo ancora avanti. Vedete, noi non vogliamo ribaltare la situazione, per carità, la colpa è di chi mette la macchina in doppia fila e va sanzionato, senza se e senza ma. Però è il sistema che si è rivelato assolutamente illogico. Non c'era bisogno di fare il cordolo, bastava solo potenziare, dispiegare i vigili urbani e sicuramente con una bella dose di multe il problema si sarebbe arginato. Peraltro stiamo parlando di cordoli che sono fatiscenti, che sono completamente vecchi, rotti, da cui emergono dei bulloni, di tal che la macchina passando, molte volte anche sfiorandolo, rischia di chiaramente riportare danni alle gomme, alle ruote. Vedete, qui tutte queste macchine in doppia fila. Ripeto, noi non stiamo ribaltando il concetto perché non vorrei che passasse questo messaggio, però bisogna agire, bisogna prendere decisioni a livello di Polizia Municipale con razziocinio. In questo modo si vede che l'esperienza del cordolo è fallita perché la doppia fila governa, la doppia fila domina ed evidentemente le sanzioni non sono adeguate, non sono tali da far desistere il cittadino da lasciare la macchina in doppia fila. Questo è l'inferno di via Cesare Battisti. Abbiamo scelto un orario serale, ma vi potremmo dire che è la stessa cosa, se non addirittura peggio ancora, nelle ore del mattino. Ripeto, doppia cordolo che non risolve il problema è cordoli assolutamente fatiscenti, pericolosissimi. Insomma, io direi eliminiamo il cordolo, potenziamo il servizio dei vigili urbani e sanzioniamo il cittadino incivile. Da via Cesare Battisti, il regno della doppia fila è tutto. Alla prossima!